Un enorme cimitero comunitario, molto più esteso di quanto si pensava, al di sotto di una necropoli romana. Sono le uniche catacombe di epoca paleocristiana della Puglia, sull'antica via Traiana. A Canosa si è conclusa la nuova campagna di scavi, promossa dalla Pontificia Commissione Archeologia Sacra. Riprenderà nei prossimi mesi per proseguire l'opera di messa in sicurezza del sito, prima della sua apertura al pubblico. Alla luce sono stati portati nuovi ambienti. E' certo l'ampliamento, cioè il collegamento con una galleria che noi vedevamo soltanto dal punto di vista superficiale. Quindi quattro grandi gallerie che ospitano cubicoli, cioè stanze di una committenza probabilmente familiare, loculi, quindi tombe più povere, e arcosoli, tombe privilegiate. In alcuni casi anche dipinti con freschi di rilievo. La catacomba, cosiddetta di Santa Sofia, è attribuibile alla comunità cristiana tra il IV e l'inizio del VI secolo, quando Canosa era sede di diocesi. Fondamentale lo studio delle iscrizioni, come questa scoperta su una lastra di pietra davanti al sepolcro. Un'iscrizione latina che ricorda la croce del Signore, quindi un simbolo evocativo della resurrezione di Cristo, e con il testo Il segno del Signore nei secoli. Un testo significativo e che segnala sicuramente un punto particolare della catacomba.